Importante vittoria per la duchessa di Sussex contro la sorellastra Samantha Markle, che ha accusato la moglie del principe Ferri per i commenti fatti a Oprah Winfrey, e al suo programma Netflix. Meghan Markle, è riuscita a respingere dal tribunale il caso di diffamazione della sua sorellastra. Samantha Markle ha citato in giudizio la duchessa di Sussex, per i commenti fatti a Oprah Winfrey e sul suo programma Netflix, Ferri e Meghan. Ma oggi il giudice ha dato ragione all'ex attrice, dopo che lei aveva chiesto l'archiviazione del caso. Con una sentenza brutale, il giudice della Florida, ha anche stabilito che il caso non potrà mai essere riportato in tribunale. In una decisione di 58 pagine, il giudice Charlie Naniwell, ha affermato che Samantha non è riuscita a identificare alcuna dichiarazione che potesse supportare una richiesta di diffamazione, o diffamazione implicita. Ha aggiunto che il terzo tentativo della sorellastra di modificare la sua denuncia, nel libro Finding Freedom, nella serie Netflix Ferri e Meghan, o, nell'intervista televisiva di un'ora del marito alla CBS, deve essere respinto con pregiudizio, il che significa che non può sollevare nuovamente il reclamo. Il giudice Naniwell, ha scritto, la mozione di rigetto del convenuto per mancata presentazione di una richiesta è accolta. Le accuse di diffamazione della querelante, Samantha Markle, vengono respinte senza pregiudizi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.